Dobbiamo essere noi i primi a metterci in sicurezza e quindi dobbiamo evitare in caso di pazienti sospetti di non andarli assolutamente a visitare a domicilio perché in caso di positività del virus potremmo noi stessi spargere il virus in mezzo alla popolazione. E' chiaro che stiamo attendendo altre rassicurazioni soprattutto sui presidi che dovremmo indossare, le mascherine particolari, quelle di uso comune, occhiali perché purtroppo il virus si può contagiare anche attraverso la mucosa congiuntivale e la tuta e tutto quello che stiamo vedendo questi giorni in televisione nei vari ospedali. Però ancora non avete ricevuto nulla di questo materiale? No, stiamo aspettando comunicazioni quindi nel frattempo quando il paziente ci chiama e ci dice guarda io sono stato a contatto con una persona a rischio, ho la febbre, ho il mal di gola, sono tutto chiuso e a questo punto noi dobbiamo fare, abbiamo fatto il triage telefonico che è consigliato appunto a livello nazionale e poi dobbiamo allertare il 118, il 118 che è già attrezzato per diciamo affrontare questi casi. Comunque non venire in ambulatorio, non andare nei pronti soccorsi ma lavorare tutto per il telefono? Beh certo, sai col panico che si è sparso in mezzo alla popolazione adesso tutti temono di avere il coronavirus non è niente a confronto di quello che sta succedendo per esempio a Milano perché lì effettivamente sono vicino in una zona endemica e quindi hanno addirittura chiuso il Duomo, non so se avete visto ieri quindi lì ci sono stati dei provvedimenti restrittivi che a tutt'oggi qui da noi non ci sono quindi finché non ci sono questi provvedimenti da parte del governo, dello Stato direi che non ci dobbiamo preoccupare il paziente che sa di essere a rischio deve rimanere a casa, non deve venire in studio, deve contattare il medico ci sono i numeri verdi per cui può contattare anche altre figure professionali per cui stiamo tranquilli e speriamo che qui da noi il virus non arrivi mai.